Allora, non si vede una minchia, ma... Chi che lo dice? Io. Vabbè, questa è la situazione. Ma si che è un bietro? Allora, ragazzi, i migliori capi della zona di Como. Allora, fossero calde sarebbero meglio. Però, che vedevo di più? Metà in Italia. E metà in Svizzera. Ciao! Mettiamo, l'altra metà la mangiamo quando c'è in Svizzera. Vai! E metà in Svizzera. In serio? A Grazie a tutti.